Le 15.000 aziende di rete impresa a cui aderiscono Confartigianato, CNA, Confesercente e Confcommercio hanno firmato un documento unico destinato ai candidati sindaci che spazia dalle infrastrutture al commercio di qualità, allo sviluppo turistico, alla semplificazione fiscale e alla sicurezza. Abbiamo ritenuto opportuno traspondere tutte le nostre idee su un documento perché in qualche modo così perlomeno rimane scritto quelle sono le nostre idee. La sintesi è riportare al centro l'impresa. Noi vorremmo che in questo territorio l'impresa fosse, se molto di più di quella che è stata fatta nel passato, riportata al centro perché dall'impresa parte tutto. Dall'impresa parte l'occupazione, parte i posti di lavoro, parte l'economia, parte le tasse che altrimenti non sarebbero possibili pagarle. Dall'impresa parte tutto. Noi vorremmo riportare l'impresa al centro. Tra le richieste dell'impresa anche il collegamento con l'alta velocità, maggiori investimenti nel trasporto pubblico e la riqualificazione di piazza mercatale. Senza dimenticare il problema della fiscalità con un'attenzione maggiore alle nuove imprese. Sviluppo del territorio che va interpretato anche in chiave turistica. L'amministrazione, in questo senso, secondo le associazioni di categoria, può favorire le aperture di attività commerciali e di artigianato di qualità, valorizzando in particolare il centro storico e rendendolo un elemento di attrazione per l'intera città.